buongiorno 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 tre buongiorno lo sapete vabbè ok tanto sono gratis quindi chi se ne frega sono abbastanza rimasto sconvolto da un particolare orologio si chiama filidia detto così sembra una malattia femminile mi è venuta la filidia ma fa lo stesso una breve considerazione a priori ovvero ultimamente gli orologi di produzione cinese stanno continuando ad aumentare di prezzo sono si sono apprezzati significativamente in quota parte per tutte le problematiche dei costi che ci sono sugli approvvigionamenti le difficoltà a far prevenire i prodotti in giro per il mondo lo sapete guardate il disastro in cui si è andata a cacciare e swatch con il moon swatch per cui ma al di là di questo è una politica secondo me abbastanza precisa per cui i cinesi hanno detto va bene visto che tutti ci spernacchiano perché siamo cinesi non dimenticatevi che la stessa cosa successe agli albori dell'importazione degli orologi giapponesi in italia che invece adesso giustamente peraltro sono estremamente considerati bene o male non lo so allora fatta questa considerazione hanno aumentato in maniera significativa i prezzi se non facendo poi delle promozioni fondamentalmente sui negozi elettronici quelli conosciuti cioè quello con le ali e i babà o con le ali espresse e di conseguenza per così estensione su quelli dell'ammazzonia eccetera bene ogni tanto però appunto su questa seguendo una un'idea che è stata secondo me all'inizio spinta soprattutto da case quali invicta fanno poi delle delle quotazioni molto 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 particolari per cui per brevi periodi di tempi sbracano i prezzi secondo me magari voi avete notizia di qualcuno che l'ha fatto prima ma io ricordo come così precursore di questa politica sono i signori appunto dell'invicta sono cinese anche loro come produzione non facciamola tanto lunga che di tanto in tanto pata pam sparacchia lì dei prezzacci su degli orologi anche di buoni contenuti nella fattispecie ho qui questo simpaticissimo invicta crono diver chiedo scusa invicta diver in titanio pesa veramente niente che adesso è fuori a 125 euro sull'amazzonia se non ricordo male comunque adesso mi metto il la pagina e che in certi periodi è stato anche più basso che dire tra l'altro non si vede chiaramente tanto il meccanismo ma un orologio di buona di buona fattura secondo me con un a questo punto rapporto qualità prezzo veramente significativo anche qui è cinese certo che cinese è invicta certo che invicta è invicta a una storia molto interessante precedentemente come casa europea però adesso è inutile che la facciamo lunga è una casa cinese ce ne sono tante altre magari mega nominate eccetera e non entriamo nel discorso di quanto poi i pezzi cinesi sono negli orologi europei e al centro dell'europa va bene andiamo avanti vi faccio vi metto l'immagine appunto della pagina in cui vendono questo invicta bene scorrazzando o che non sbagliare termine scorrazzando ok che non è spagnolo e scorrazzando per appunto questo noto sito cinese molto espresso che ti mette le ali trovo un orologio tra l'altro di una marca che peraltro è già stata si è già vista appunto sui più importanti siti appunto quali amazzogna e filidia come si diceva vabbè l'ho già detto la battuta stupida che sembra una malattia venerea l'ho già detto fa lo stesso e i cinesi a trovare i nomi sono fantastici sono riusciti a chiamare un orologio pgerni codice fiscale pgerni vabbè ok e questo filidia che per neanche ci capiamo è una clamorosa copia una clamoroso omage dell'ivc pilot watch chronograph speed fire in the sky in the yellow sun marine will live of course e però signori 75 euro un orologio che comunque un cronografo stiamo parlando di questo bagaglio qua che ne dite ne vogliamo parlare ecco vi metto qualche altra foto vi metto anche qualche foto dell'ivc un videino e poi ne riparliamo che dite a a a a a Grazie a tutti. E' ma come si dice, porca zozza, cioè 41 mm, 5 atmosfere, comunque un crono, tra l'altro calibro miota, così dicono i ragazzi, è un crono eh? Aspetta che vediamo se si vede partire tutta la lancetteria, la vedete tutta la lancetteria che cronomeggia di brutto? Cioè ragazzi, non lo so, si visto così è un po' traballante la parte cronografia, però non lo so, domanda. Ma come cavolaccio fanno? Boh, è promozionale, certo, tutto quello che volete indicano il prezzo scontato, però, boh, non si capisce. Cosa volevo dire con tutto questo video? Assolutamente niente, vi volevo informare di questa cosa, fate le vostre considerazioni e trovate un bel lavoro di giorno. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti.